Domani, dal primo agosto, noi siamo a casa, licenziate, ci dovrebbero arrivare le lettere di licenziamento. La comunicazione a noi non è arrivata da parte né di provincia né della nostra azienda, ma è arrivata tramite un articolo comparso in un quotidiano locale. Sono mamme, papà e nonni, licenziati senza preavviso e senza comunicazione alcuna da sabato prossimo. Una decina di dipendenti dell'Ancinigo, del colosso della ristorazione Cirfood, in protesta davanti alla provincia per reclamare dignità e lavoro per il servizio di ristorazione che offrono a mense scolastiche e aziendali delle case di riposo. I ragazzi del centro scolastico di l'Ancinigo, ma non solo, favorisce anche una parte, una struttura di ragazzi portatori di handicap e favorisce anche un indotto lavorativo che si serve della nostra mensa per appunto mangiare, pranzare. Si tratta di lavoratori tra i 50 e i 60 anni con un'esperienza ventennale e lasciati a casa dall'oggi al domani. Adesso mi rende un po' difficoltoso anche a me trovare un posto di lavoro perché è una città di età con i 60 anni, perciò mi crea dei problemi. E mentre i dipendenti erano in presidio fuori la provincia, dentro al centro Artemio, le rappresentanze sindacali unitarie si scontravano con il mondo cooperativo in attesa di decidere le sorti dei lavoratori. Quello che noi contestiamo alla nostra azienda è il fatto di non aver accettato la proroga suggerita appunto dalla provincia per strategie aziendali. Ricordo che noi siamo comunque stati assunti da una cooperativa e lo statuto delle cooperative non prevede il fine di lucro ma prevede sostanzialmente il diritto al lavoro.